Una comunicazione che si fa notare. E' questo lo slogan del blog La Boutique delle Parole, creato da Dalila Campanile. Una scelta di stile, ma soprattutto anche un'originalità dei contenuti, la cura dei dettagli e soprattutto capire come le parole possono essere importanti nel web e anche per chi fa informazioni. Noi abbiamo intervistato Dalila Campanile e la prima domanda che le facciamo è questa. Dalila, come mai questa idea di diffondere la comunicazione di stile?